Rieccoci a un nuovo appuntamento per quanto riguarda il Milan femminile. Negli ultimi giorni tre calciatrici hanno effettuato le visite mediche per vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Si tratta di Andrea Stascova, Julia Epigà e Grace Fisk. Entrando nel dettaglio e conoscendole meglio, allora Julia Epigà è una calciatrice nazionalità francese naturalizzata italiana che arriverà in rosso nero dal Fleury 91, mentre Grace Fisk è una calciatrice inglese che arriverà al Milan dal West End United ed entrambe sono dei difensori. Per quanto riguarda invece Andrea Stascova è ben conosciuta nel nostro campionato perché ha militato per tre stagioni nella Juventus dove ha praticamente vinto tutto tra campionato di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana per poi passare all'Atletico Madrid e ora ritornerà nel nostro campionato per giocare con il Milan femminile. Nei prossimi giorni le tre calciatrici firmeranno il contratto che relegheranno la squadra rossonera per la prossima stagione e molto probabilmente Stascova prenderà il posto della partente Martina Piemonte nell'attacco rossonero e quindi uno scacchiere di Maurizio Gazzi. Grazie a tutti e forza a Milano!